ed ecco con un altro video io sono Isa e oggi vediamo un power station molto interessante non solo dal punto di vista del prezzo perché costa circa 37 centesimi a watt ed è da 2 kilowatt 2073 watt praticamente ma interessante anche dal punto di vista delle funzionalità che sono complete tieni conto che 2000 watt ti bastano per alimentare una casa più o meno per una giornata ovviamente non stiamo parlando di alimentare una lavatrice anche se questo potrebbe esserne capace per alimentarla da sola ma lo puoi utilizzare come ho detto una giornata intera per uso normale tutti i frigoriferi la televisione tutte le luci eccetera eccetera ti dura davvero tanto la batteria interna non è agli ioni di litio ma ancora meglio al ferro fosfato di litio quindi abbiamo circa 3500 cicli con una garanzia di durata della batteria fino all'80 per cento rispetto a quando la acquisti nuova e generalmente le batterie al ferro fosfato di litio ti durano dai 5000 ai 10.000 cicli se la mantieni bene il ferro fosfato di litio tra l'altro è famoso anche per potersi ricaricare in fretta e il carica batterie bms e anche l'unità di controllo mppt per la ricarica solare è tutto integrato all'interno infatti ti danno questo cavetto per ricaricarlo direttamente dalla presa di muro e la cosa interessante è che questo power station riesce a ricaricarsi totalmente da zero in circa un'ora e 45 minuti per quanto riguarda gli output a 230 volt che hanno un'onda sinusoidale pura quindi si può utilizzare per qualsiasi tipo di apparecchiatura anche elettronica dalla più rozza fino a quella più sensibile agli sbalzi di corrente infatti controllata molto bene e la potenza massima di erogazione costante e di 2000 watt mentre quella di picco di 3000 watt e assieme al power station della bluetti che avevamo visto tempo fa questi due sono i più potenti che vediamo su questo canale ma questo ha due particolarità che preferisco uno il prezzo costa meno della metà della bluetti e si carica anche molto più rapidamente una differenza che potresti preferire o non preferire che questo ha il caricabatterie integrato rispetto al bluetti che ha il caricabatterie gigantesco da portare sempre in giro a parte è scomodo d'altra parte questo aggiunge peso all'unità principale infatti pesa addirittura 25 kg non è facile da trasportare anche se qui ha le maniglie però sicuramente consiglio di prendere un carrellino eventualmente se lo vuoi trasportare da solo ok adesso facciamo la prova di consumo e vediamo quando si interrompe ed entra in protezione accendo il primo phone siamo a 1984 watt costanti senza assolutamente nessun problema accendo il secondo font che dovrebbe essere sui 300 va siamo a 2180 senza nessun problema inizio accendere il terzo apparecchio siamo a 2000 ok 2600 watt il port station entra in protezione e si spegne quindi oltre ai 2000 dichiarati se lo stai utilizzando anche ai 2100 2200 watt questo poste riesce ad alimentare tranquillamente senza nessuna interruzione qui sopra abbiamo la possibilità di appoggiare qualsiasi cosa che si ricarica wireless e abbiamo la ricarica wireless quick charge fino a 10 watt dietro invece abbiamo un pulsante per accendere e spegnere la luce a led da 3 watt non è tanto potente la luce e sicuramente non è comoda da utilizzare come torcia d'altra parte se lo metti in giardino per alimentare qualcosa ecco potresti utilizzarlo per illuminare il retro del power station per quanto riguarda le uscite dc abbiamo la presa accendisigari a 120 watt 12 volt 10 ampere che ha in comune queste quattro prese dc 5.5 e 2.5 abbiamo anche le uscite usb e ne abbiamo quattro addirittura sono tutte quick charge a differenza del bluetti che aveva solamente le prese standard queste prese quick charge sono 12 volt 2.4 ampere quindi ognuna sono 24 watt non solo qui abbiamo due prese pd da 100 watt che ormai puoi utilizzare per un sacco di cose caricare un computer un saldatore tantissime cose che abbiamo visto sul canale con questa potenza riesce a fare quasi qualsiasi cosa mi piace tantissimo anche lo schermo lcd che è molto visibile anche sotto i diretti raggi del sole ecco a differenza per esempio del del bluetti ti faccio vedere il riflesso si vede molto bene ogni gruppo ha un pulsante per accendere il gruppo infatti come puoi notare adesso schiaccio qua il pulsante per accendere spegnere le prese ac e lo stesso vale anche per il gruppo a corrente continua per accendere basta tenere premuto per spegnere invece basta premere un'altra volta molto versatile anche la ricarica via corrente continua tramite il connettore xt 60 e prende da 33 volt minimo fino a 60 volte 20 ampere per un massimo di 600 watt se hai infatti un pannello da 600 watt riesce a ricaricare questo power station in circa quattro ore qui in mezzo abbiamo un tasto risetto eventualmente se dovessimo avere un cortocircuito perché questo power station ovviamente protetto da cortocircuito o sovratensione sottotensione eccetera eccetera se dovesse entrare in azione una delle protezioni possiamo cliccare questo bottone per risettare il power station nella parte destra e sinistra del power station abbiamo le griglie di raffreddamento devo dire che anche quando lo sto caricando molto rapidamente tramite la presa di casa è molto silenzioso anche se in realtà adesso è inverno quindi la temperatura è bassa perciò per forza che è silenzioso d'altra parte loro dichiarano solo 24 db di rumorosità con la ventola che sta raffreddando al massimo ventola con funzionamento proporzionale quindi non si accende tranne se si scalda il power station infatti nelle situazioni normali di ricarica non la senti neanche certamente la maggior parte dei pannelli solari anche quelli che compri da montare sul tetto di casa utilizzano questi connettori mc4 infatti ti danno un cavo adattatore da mc4 a x60 per ricaricare il power station tramite un pannello solare l'unica cosa che non mi è piaciuta in questo power station che il cavetto in dotazione usbc usbc è ottimizzato al massimo per 60 watt non per 100 watt naturalmente non succede niente anche se utilizzi questo perché i cavetti usbc hanno all'interno un microchip che riconosce il vattaggio massimo del produttore quindi il microchip non permette un prelievo maggiore di quello indicato dal produttore su questo canale abbiamo visto tanti power station non tutti purtroppo anzi pochi di questi power station supportano la funzione ups dei quali questo è a 15 millisecondi di switch dalla corrente di casa alla batteria in caso di interruzione di corrente ed è una cosa fantastica infatti se vuoi utilizzare questo power station come gruppo di continuità colleghi la cosa che vuoi alimentare senza interruzione di corrente direttamente al power station e la corrente che utilizza passerà attraverso il power station da un circuito differente dalla batteria quindi non passa all'interno della batteria così da non rovinarla preleva la corrente direttamente dalla presa di muro eventualmente in caso di interruzione c'è questo relè che switcha in 15 millisecondi il tuo apparecchio collegato non si accorge neanche dell'introduzione della corrente continua a funzionare perfettamente come prima però questa volta alimentato direttamente dalla batteria del power station come avevo detto all'inizio di questo video questo power station ha un prezzo molto interessante specialmente in occasione degli sconti di novembre e specialmente domani 11 11 2023 oltre al solito coupon sconto che ti lascio nella descrizione del video se hai delle domande lasciale giù nello spazio commenti nel frattempo ti saluto e ciao alla prossima ciao ciao Grazie.